La vicenda legata all'IPAB Antonietta Aldisio e il ritiro della concessione alla società La Fenice, che la gestiva da circa sei mesi ad opera del commissario straordinario nominato alla regione, sta portando con sé numerosi strascichi legati soprattutto ai lavoratori. Vi abbiamo raccontato sabato della protesta civile dei 20 operatori della Fenice che adesso rischiano di trovarsi senza più un posto di lavoro. Oggi invece vi raccontiamo di altre quattro lavoratrici, tra cuoche e operatori sanitari, che lavoravano all'interno dell'IPAB prima dell'arrivo della nuova gestione con dei contratti a tempo determinato, 11 mesi di lavoro e uno di pausa fino a rinnovo. Tutto questo fino al subentrare della nuova società che ha scelto di non avvalersi più delle loro prestazioni. Oggi, con la concessione ritirata alla Fenice, le lavoratrici chiedono di essere reintegrate e stamattina si sono recate al Comune per avere un confronto con l'amministrazione. Non vogliono una guerra tra poveri con gli altri operatori, chiedono solo che vengano rispettati i loro diritti acquisiti negli anni. Noi non vogliamo che sia una guerra di poveri, anche perché siamo tutti cittadini di questo paese e sappiamo benissimo la realtà gelese. Noi siamo vecchie lavoratrici della casa di riposo Maria Antonietta Aldisio, abbiamo dato anima e corpo quando lavoravamo là, non per un fattore economico, ma per portare avanti comunque questa casa di riposo affinché non chiudesse. Dall'agio al domani ci siamo viste comunque a casa, quando era il momento di rientrare visto che noi lavoravamo 11 mesi su 12, quando era il momento di rientrare ci siamo viste chiudere la porta in faccia e vorremmo solamente riavere il nostro posto di lavoro e chiediamo al prefetto o al commissario stesso di far valere i nostri diritti di prelazione perché noi abbiamo un curriculum, un'esperienza lavorativa all'interno della casa di riposo, abbiamo tutti i requisiti per poter rientrare. Al mancato rinnovo del contratto tra l'altro si aggiunge anche il mancato pagamento di diverse aspettanze pregresse nonostante le rassicurazioni della vecchia gestione. Io ho lavorato sempre lì dal 2015 e mi sono ritrovata pure a casa, senza lavoro e non so perché, anche perché la cucina lì c'è solo una cuoca che fa parte dell'Antonietta Aldisio, io ero la seconda e quindi di conseguenza necessitava la mia figura lì dentro, ma nonostante tutto mi è stata chiusa la porta in faccia dicendomi che non servivo. Oltre a questo ci sono anche diverse aspettanze che ancora molte di voi devono ricevere e che situazione c'è in questo caso? Allora, in pratica anche lì abbiamo fatto tramite l'avvocato e il sindacato la richiesta che ci venissero ridati i soldi delle nostre prestanze che abbiamo avuto nel 2019. Il Presidente allora, Padre Tanturella, ci aveva assicurato che a gennaio le avremmo avute, mentre in effetti non è stato così, anche perché poi è andata a finire così e non sappiamo neanche se riusciremo a ottenere questi soldi. Noi chiediamo al Prefetto, al Commissario di pensare anche a questo, nonostante tutto per il posto di far prevalere il nostro, il diritto al nostro posto di lavoro, anche di riuscire a far riavere i nostri, perché abbiamo sudato per quei soldi lì. In tarda mattinata le lavoratrici e i loro rappresentanti sindacali hanno avuto un breve incontro con il sindaco.